E' stata deposta dall'amministrazione comunale di Pescara una corona d'alloro dedicata ai martiri di Colle Pineta, 78 anni dalla fucilazione dei nove partigiani della banda Palombaro. La cerimonia in onore dei caduti per la libertà ha avuto come scenario il cipo in memoria di Pietro Cappelletti, Nicola Cavorso, Beniamino Di Matteo, Raffaele Di Natale, Stelio Falasca, Aldo Grifoni, Alfredo Grifone, Vittorio Mannelli, Aldo Sebastiani che sorge nelle adiacenze dell'istituto comprensivo Pescara 7. Alla commemorazione ufficiale hanno preso parte il sindaco di Pescara Masci, il presidente del consiglio comunale Antonelli, il vice sindaco Gianni Santilli, il perfetto Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco di Chieti Diego Ferrara, la dirigente scolastica Rossella Di Donato, rappresentati delle forze dell'ordine, delle forze armate, delle associazioni combattentistiche d'arma. La cerimonia ha risentito delle limitazioni imposte dalla normativa anti-covid e quindi non c'è stata la partecipazione dei ragazzi della scuola, ma la lettura di alcune poesie scritte dagli alunni della scuola 11 febbraio 1944 ha testimonianato l'impegno delle docenti e dei ragazzi stessi sui temi della storia e della resistenza. Aldo Mario Grifone, un nome scelto non a caso perché ricorda i suoi zii. Cosa successe quell'11 febbraio? L'11 febbraio fu l'esito intanto di una retata, di alcune retate fatte da una banda messa su dal regime fascista, banda fioresi, che aveva lo scopo di catturare tutta la banda palombare. Mario, Alfredo per l'anagrafe, invece si costituì quando seppe che avevano arrestato tutti i fraterelli, tra cui mio padre. Scagionarono mio padre perché era il più grande della famiglia e loro andarono in un processo farsa che si svolse nella sala consigliare del comune di Chieti. Vennero tutti condannati a morte, anche zio Guido. Poi all'ultimo momento vi furono tre graziati, zio Guido, Gennaro Finore e Potenza, che separarono i loro destini proprio la mattina dell'11 febbraio, prima di venire qui. Grazie.